Cerchi nuove idee per arredare la stanza da bagno? Vuoi la qualità delle migliori marche e un servizio davvero unico? Siamo qua! Vieni ad Arquata Scrivia. Fidra inaugura il nuovo expo per l'arredo bagno. Le migliori soluzioni per l'arredo bagno e la termoidraulica da oggi sono anche ad Arquata Scrivia, in via del vapore 49. Ti aspettiamo sabato 12 ottobre. Fidra, professionisti dell'arredo bagno.